Questa qui è la seconda parte della serata dell'altra volta iniziata per parlare della manutenzione fotografica, della manutenzione della nostra attenzatura fotografica, il nostro corredo prezioso. Normalmente questa è un'unica serata che faccio quando la facciamo dal vivo che ovviamente è più divertente. L'ho suddivisa in due serate dove nella prima serata abbiamo parlato più del corpo macchina, degli obiettivi, pulizia sensore eccetera e quest'altra serata parleremo invece del resto degli accessori che riguardano il nostro corredo fotografico. Prima di iniziare gli argomenti di questa serata vi volevo dire un attimo una cosa che riguarda ancora l'altro giorno, l'altra chiacchierata che abbiamo fatto perché mi hanno fatto delle domande alcuni amici per quanto riguarda la pulizia del sensore. Io ho parlato della pulizia del sensore, quella classica che viene fatta quando ci sono eventuali problemi e che deve essere fatto ogni tanto quando ci stanno dei depositi sulla superficie del sensore che non permettono la semplice pulizia con la spompettata come si chiama oppure la pulizia con l'aria o che non permettono alla pulizia quella standard della fotocamera perché la fotocamera quasi tutte ormai hanno uno strato a ultrasuoni che fa vibrare il sensore o all'accensione della macchina o anche in maniera diciamo volontaria da menu e questo questa pulizia facendo vibrare il sensore già fa già fa cadere diciamo qualche granello di polvere però sappiamo tutti quanti chi l'ha provata che è veramente poco efficace diciamo giusto se ci sta qualcosa di attaccato sul sensore in maniera molto 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 leggera riesce a staccarsi se non rimangono però il 60 70 per cento delle volte per pulire il sensore basta effettivamente quello che si chiama la spompettata cioè mettere dell'aria ad alta pressione senza esagerare dentro la camera del sensore e viene effettuata praticamente una pulizia sui generis che però il grosso lo toglie anche se purtroppo ci tocca ogni ogni tanto pulire in maniera un po più drastica o con i due sistemi che abbiamo utilizzato che abbiamo spiegato l'altra volta fatto da chi eventualmente c'è un minimo di manualità lo dico sempre allora per quanto riguarda la pulizia pura del sensore me la faccio ve la faccio vedere perché anche lì se fatta bene da un ottimo un ottimo risultato e il 70 80 per cento delle volte porta il vostro sensore in una situazione tranquillamente utilizzabile senza arrabbiarsi con i pallocchi nel cielo e quelle quelle quegli effetti brutti dei della polvere sfocata che viene sul che viene sul sensore viene sulle immagini dove ci stanno degli sfondi uniformi quindi per quanto riguarda la la pulizia del sensore quella classica fatta velocemente se fatta bene da degli ottimi risultati comunque e vi faccio vedere i step fondamentali per farla allora la fotocamera ovviamente deve essere con le batterie cariche completamente cariche perché dobbiamo lavorare con la camera aperta e se mentre stiamo lavorando per un motivo per l'altro si chiude la camera con all'interno la pompetta eccetera si possono anzi quasi sicuramente si rovinano i delicatissimi leveraggi dell'alzata e dell'abbassata dello specchio e della chiusura ovviamente del del sensore non ne parliamo della tendina ok quindi assolutamente macchina completa batteria completamente carica dopodiché si mette la macchina in bulb in bulb e in modo da essere sicuri che tutto il tempo che si tiene premuto l'otturatore rimane lo specchio aperto e le operazioni da fare sono queste con questa sequenza che ognuno ogni punto di questa sequenza ha la sua importanza la prima cosa è pulire nella zona esterna della fotocamera pulire la zona intorno col col copri e col copri camera praticamente pulire intorno in modo che nel momento che noi apriamo non è che già va a finire della polvere tutte queste operazioni possibilmente farle all'inizio con la fotocamera da dritta a leggermente inclinata in modo da evitare che la polvere incaduta vada a finire dentro ma nello stesso momento con la pulizia noi facciamo in modo che il tutto esce cade verso il basso una volta fatta la prima pulizia col pennello si apre la camera e si fa con da questo da questo momento in poi si fa con la camera verso il basso si fa la pulita con nella camera senza aprire l'otturatore quindi con attenzione camera verso il basso e prima pulita senza problemi in modo che non andiamo a spingere poi sul sensore quello che quello che c'è all'interno della camera ok quindi si fa prima la pulizia normale ok il primo passaggio dopodiché si preme l'otturatore si apre chiaramente si preme il pulsante dell'otturatore si apre l'otturatore si alza lo specchio si apre la tendina sempre verso il basso con sempre con la pompetta in maniera abbastanza circolare in modo da fare fare sì senza spingere all'interno ma lateralmente in modo che l'aria va di lato spingere e spinge fuori ok quindi sempre in maniera circolare così col 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 ovviamente il dito premuto e l'otturatore aperto chiudere fare ancora dopo aver chiuso l'otturatore dopo aver rilasciato il pulsante di scatto finire di pulire un'altra volta sempre abbassato il la fotocamera si rimette il tappo e la foto è pronta per vedere vi dico quest'ultima cosa per controllare la effettiva pulizia dello schermo c'è un sistema usate questo sistema e questa è questa questa tecnica per quanto riguarda il tipo di fotografia da fare perché sennò venite praticamente imbrogliati nel senso che potete credere che sia pulito mentre invece si tratta solamente di una messa a fuoco fatta e fatta male per per il tipo di prova che dobbiamo fare la prova si fa molto facilmente il si mette un obiettivo qualsiasi davanti un qualsiasi obiettivo che noi abbiamo il la caratteristica però è che dobbiamo mettere il diaframma completamente chiuso quindi se il diaframma è chiuso 16 si metterà 16 a 32 si metterà 32 se è un obiettivo macro e c'è il diaframma 64 si chiude tutto il diaframma e a questo punto si fa uno scatto verso una qualsiasi sorgente luminosa in mente dato che l'otturatore chiuso probabilmente per riuscire ad avere uno scatto leggibile bisogna tenere premuto uno due secondi quindi mentre si tiene premuta la fotocamera con l'obiettivo completamente chiuso di diaframma si muove la fotocamera in modo che l'immagine viene completamente sfocata quel poco d'immagine che viene viene completamente sfocata si controlla sull'istogramma una volta fatta la foto su questa sorgente luminosa si controlla l'istogramma che deve avere la gobba della foto risultante nella parte sinistra nella parte sinistra e questa gobba deve stare tra il 20 e il 40 per cento dell'istogramma quindi partendo da sinistra voi dovete vedere sull'istogramma una gomma una gobba al centro dal centro a leggermente verso sinistra una volta che avete controllato questa questa caratteristica la foto è venuta bene per controllare praticamente gli eventuali difetti di sporcizia di sensore a questo punto prendete la foto scaricate la foto dalla macchina controllato sul pc sul pc mi raccomando perché tanto è inutile controllare sulla fotocamera se no dovete andare al massimo dell'ingrandimento e andare a cercare tutti i puntini non è cosa si mette sul pc un bel ingrandimento si controlla se vedete che ci sono ancora dei dei puntini che danno abbastanza fastidio rifate tutta quanta la procedura se i puntini rimangono e non si muovono significa che hanno qualcosa di oleoso o qualcosa di grasso qualcosa che li tiene a tratti e che non si tolgono e a quel punto c'è bisogno del passaggio bagnato o dell'altro tipo di pulizia di cui abbiamo parlato ok questo volevo dirvi per completamento quindi però questa operazione la possono fare assolutamente tutti un po di attenzione solamente a ricordarsi delle batterie cariche a ricordarsi di mettere il bulb quando si mette quando si fa la foto macchina verso il basso e viene benissimo ok ed è quello che anche se portate la macchina dal riparatore per farvi fare il controllo eccetera la prima cosa che loro fanno è questa qua controllano se è pulita ve la danno direttamente in questo stato non so se si prendono i soldi 50 euro però va bene credo di no comunque spero spero di no benissimo a questo punto ha una cosa sul panno perché mi hanno mi hanno detto mi hanno chiesto dice tu parli di panno il panno ovviamente quello in microfibra il panno che usate che usate per pulire specialmente le ottiche mi raccomando mettetelo dentro una bustina e non usate lo stesso panno per pulire le ottiche anche per pulire la macchina sembra una cretinata ma vedete che un granello di sabbia rovina un obiettivo ok quindi attenzione la pulizia degli obiettivi si fa con un panno dedicato nella sua bustina ok microfibre a le microfibre un'altra cosa che spesso la gente non dimentica si può anche lavare quindi non è che c'è bisogno di tenerlo anni dentro la sua bustina e ogni tanto anche una buttata in lavaterice viene anche bene ok bene a questo punto parliamo degli argomenti di questa sera tutti quanti importantissimi oltretutto perché riguardano accessori indispensabili per il funzionamento della fotocamera cominciamo dalle batterie croce delizia perché più andiamo avanti più le batterie sono importanti la macchina diventa un pezzo di ferro assoluto senza batterie e più costano perché d'altronde si sa che che sono sono indispensabili quindi un po perché effettivamente devono essere ad altissima ad altissimo livello ultimamente però anche perché ovviamente essendo indispensabili ci servono e quindi si divertono con questi prezzi a fare dei prezzi assolutamente esagerati per quanto riguarda una una fotocamera cioè mi sembra scorretto abbastanza abbastanza fuori mercato pagare 60 70 euro una batteria tipo questa per la nikon ok quindi è chiaro che poi spopolano i cloni va bene allora volevo parlarvi un attimo per dei cloni perché anche qui ci sta un una disputa generale è buono non è buono va bene il cinese non va bene il cinese e tutta questa situazione per quanto riguarda i cloni è una situazione abbastanza delicata perché succedono due cose in generale per quanto riguarda il clone cioè noi dobbiamo assicurarci che clone sia di qualità e come facciamo a saperlo cioè terze parti clone sembra brutto diciamo una batteria terze parti ok la famosa patona del conosciuta tanto si può fare non è non è una pubblicità di grande rilievo o comunque altri nomi classici che girano sui 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 vari venditori online come facciamo a sapere se è buona ovviamente col passaparola perché ho anche con qualche test che viene fatto su youtube eccetera però questo è solamente metà del problema perché il problema grosso che si ha con le batterie e con tutti gli oggetti elettronici di terze parti e l'inaffidabilità del prodotto dovuta alla scarsa allo scarso controllo di qualità quindi succede sempre quando andate a vedere i giudizi per esempio i feedback di dei prodotti anche buoni vedete che insieme ai prodotti mi sono trovato benissimo va meglio dell'originale eccetera va malissimo dura la metà dura un quarto questo dipende dal fatto che il controllo qualità per abbassare il prezzo ovviamente il controllo qualità dei prodotti di terze parti è molto 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 scadente questo fa sì che se un prodotto è ben conosciuto non è detto che se voi lo compriate la seconda volta va bene o se ne comprate una come può darsi che vi va bene per un sacco di tempo questo succede anche con i prodotti originali però è molto più probabile che succeda con i prodotti terze parti perché il controllo di qualità è veramente scarso per abbassare ovviamente il prezzo quindi vi dovete non solo fidare del passaparola ma dovete comunque sperimentare di persona la qualità del prodotto volta per volta che viene preso quindi può darsi che un prodotto di ottima qualità l'ho comprato un'altra volta e vi dura la metà perché semplicemente è stato è un prodotto difettoso perché diciamo il controllo di qualità che normalmente avrebbe dovuto buttarlo perché ha un difetto costruttivo non viene fatto bene quindi viene messi i mezzi prodotti nuovi non voglio parlare di roba truffaldina messa apposta in mezzo parliamo solamente di controllo di qualità e poi c'è un'altra cosa questa è ancora più subdola che succede con le terze parti sta succedendo con un sacco di componenti cinesi che si clonano tra di loro quindi e non succede solamente su su apparati abbastanza di alto livello di marca tipo la famosa batteria di cui parlavo prima che esiste quell'originale quella clonata ma quella clonata dell'originale cinese come fate a sapere qual è non si può sapere purtroppo perché sono talmente bravi che si clonano tra di loro in una maniera incredibile quindi praticamente è impossibile trovare qual è l'originale cinese e qual è il clone dell'originale cinese questo complica ancora di più e aumenta le probabilità di trovare un prodotto difettoso anche di un prodotto che normalmente va abbastanza bene questa cosa addirittura pensate che succede con i componenti elettronici ci sono dei componenti elettronici dei circuiti integrati che i cinesi si stanno copiando tra di loro quindi è assolutamente è un mondo senza una battaglia senza fine tra pezzenti perché poi stiamo a livello non tra pezzenti quelli che ci guadagnano tra pezzenti quelli che devono far scendere i prezzi per riuscire a mantenere il mercato quindi tenete conto di queste cose e non fidatevi mai di una cosa che dice sì io l'ho comprata e quella lì va bene perché con le batterie non si scherza non si scherza perché una batteria che non va bene esplode una batteria che non va bene si gonfia e distrugge la fotocamera e altre cose che vediamo tra un attimo quindi è importante che voi una volta che abbiate testato la vostra batteria nella fotocamera questo succede anche con le originali dopo un certo tempo quindi attenzione a questo tipo di prove la batteria normalmente se potete non la lasciate in macchina non la lasciate in macchina perché specialmente le batterie a litio e lo vedremo fra un attimo sono batterie che anche da sole anche lasciate lì possono gonfiarsi e esplodere pure senza essere alimentate solamente per un problema interno chimico che può succedere quindi se lasciate la macchina per tanto tempo togliete la batteria da dentro un consiglio mio quindi fate bene le prove parliamo un attimo quindi di batterie in generale perché pure qui ci stanno un sacco di leggende sul modo di caricare sul modo migliore i cicli di carica e scarica e tutte queste cose allora prima di tutto parliamo delle famose dei vari tipi di batterie perché ognuna è un discorso a parte cercherò di essere veloce allora le batterie più conosciute sono le alcaline quelle più non ce le ho le conoscete anche le famose doppio a o tre a sono le famose batterie alcaline che ci stanno di tutti i tipi e sono le meno pericolose in assoluto se non le lasciate perché anche lì come ben sapete la famosa uscita dell'acido classica è un dramma all'interno delle apparecchiature però queste batterie hanno una caratteristica che hanno una elevata durata nel tempo ma una bassa corrente quindi praticamente vanno bene per tutte le applicazioni a basso assorbimento quindi scordatevi di usare l'alcaline nei flash lo dico perché qualcuno ancora ci prova a mettere le batterie alcaline nei flash durano un quarto delle batterie ricaricabili e hanno un tempo di ricarica fra un flash e un altro molto molto lungo quindi mi raccomando usate le alcaline per le tastiere per i telecomandi per tutta questa roba a basso consumo nel tempo ma non usatele per roba ad alto assorbimento ok quindi flash pacchi batterie che devono servire tipo batterie tampone backup eccetera non usate le batterie alcaline di più non vi dico perché tanto le alcaline le prendete le comprate le mettete quando si scarica le buttate e finisce lì ovviamente non provate a ricaricarle perché anche quelle sono capaci di esplodere va bene ha una cosa importante per quanto riguarda l'acido se lasciate la batteria con dentro e vedete che si è fatto l'acido e voi pulite bello pulite tranquillamente dicendo a mi si è salvato non è vero niente perché l'acido è andato sullo stampato è andato all'interno del circuito e con molta calma corroderà nei mesi successivi e distrugge tutta la parte che sta attaccando quindi anche lì se vedete che la batteria ha fatto l'acido e è un oggetto a cui ci tenete portate quell'oggetto in un centro d'assistenza e dite questa batteria ha fatto l'acido mi fate una pulizia e un controllo appropriato all'interno perché sennò il regalo ve lo trovate dopo un mese due mesi con tutto il circuito completamente distrutto tutto o la parte del circuito corrosa dall'acido ok quindi non fidatevi del primo impatto non ne parliamo se poi trovate il danno totale perché allora quelli lì veramente sai quando quando trovate tutto bello bianco dentro tutto inchiaccato vabbè conoscete l'argomento perché penso che ci siamo passati tutti bene questo per quanto riguarda le alcaline le batterie al piombo esistono ancora perché servono ne parlo come corredo fotografico perché tutti quelli che fanno ovviamente timelapse lunghi fotografie astronomiche eccetera hanno bisogno comunque di un power bank un pacco batteria abbastanza grosso per passare la nottata eccetera si usa ancora la buona vecchia batteria al piombo che rimane la più economica piombo ermetico quindi gel quindi senza problemi di senza problemi di sicurezza di acido che fuoriesce eccetera l'unica accortenza che avete di questa batteria non lasciatela mai scarica una batteria al piombo scarica dura pochissimo quindi la batteria al piombo deve essere sempre carica se avete un po di soldi da spendere spendete 20 30 euro comprate quello che si chiama il mantenitore di carica che non è un caricabatterie ma è un circuito elettronico che tiene la batteria sempre con un minimo minimo di carica appena vede che si scarica sotto una certa tensione controllata a microprocessore va bene anche per le batterie della macchina io durante questo periodo nel garage chiaramente l'avevo nella sulla batteria della macchina si mette lì è uno scatolino di poche lire che serve a serve a mantenere la batteria carica su quelle al piombo le fa durare anni e anni e anni anche se non la usate quindi questa è la cosa se non volete usare quello ricordatevi di ricaricarlo ogni tanto in modo da non farla da non farla andare in scarica tutte le batterie portate a zero si rovinano perché scattano dei meccanismi chimici all'interno che distruggono gli elementi gli elementi che chimici che formano la reazione quindi la generazione di tensione quindi attenzione non portare mai le batterie a scarica completa parliamo un attimo solo delle batterie al nickel cadmio che fortunatamente non ci stanno più fortunatamente spero per voi che non li abbiate più se le avete nel cassetto prendetele portatele in qualche rifiuto in qualche deposito di rifiuti speciali e toglietevele davanti il prima possibile le batterie al nickel cadmio il cadmio è un materiale che si è rivelato molto molto più pericoloso dell'organismo del mercurio o del piombo che sapete che non sono molto salutari quindi fa molto più male perché oltretutto mentre il mercurio e il piombo fanno male solamente per il contatto il cadmio fa ma fa molto più male per inalazione e dato che è qualcosa che va nell'aria il cadmio quando la batteria si degrada il mio consiglio ve lo dico un'altra volta se vedete nickel cadmio sulle batterie immediatamente toglietevele davanti perché non sono per niente salutari le caratteristiche delle batterie al nickel metal mentre prima era solamente il puro amperaggio cioè quanto è potente la batteria quanta quanta per quanto tempo riesce a dare la sua tensione e la sua potenza c'è stato un altro parametro che nel perfezionamento di queste batterie si è avuto nel tempo che è praticamente la durata nel tempo che mentre prima si scaricavano cioè se voi le lasciavate da una parte dopo un poco la batteria si scaricava da sola e voi pensavate di avere la batteria carica avevate da usare il flash quella sera indispensabile si mettevano le batterie completamente scariche perché casomai non ci avevate pensato che erano tre mesi che stavano lì e si erano scaricate questa cosa l'hanno messa a posto le batterie alcune batterie nuove di classe quindi vi avverto di prezzo più elevato di quelle normali hanno la caratteristica di avere una scarica addirittura di anni quindi possono possono dopo un anno perdono il 20 per cento della carica quindi quasi come le alcaline come durata e ve le consiglio vivamente non vi dico vi dico queste qui che sono secondo me le migliori sono le nel loop pro della panasonic queste batterie sono tra le più longeve che ci stanno le fanno queste le fa la dura cioè lì in generale mi pare delle batterie che permettono il che hanno un'autoscarica quasi non dico infinita ma comunque molto molto lunga e volevo ora dirvi un attimo una cosa la batteria una delle caratteristiche che ha sono i cicli di carica previsti cioè quanto è previsto il ciclo di carica e ci stanno varie tecniche che si trovano su internet oppure delle informazioni per allungare o per tenere al più possibile i cicli di carica volevo precisare che i cicli di carica sono semplicemente uno strumento indicativo per dire la durata della batteria non è che c'è un contatore la batteria che dice quanto quante volte la sto caricando è una cattiva informazione che viene data perché insieme alla batteria normalmente non succede questo sulle nickel metal ma succede sulle sulle batterie a litio c'è un circuito elettronico con una micro cpu sopra che controlla lo stato della batteria e sta incorporato nella batteria questo circuito controlla lo stato della batteria e controlla quanti cicli di carica ha fatto però non è che è un parametro assoluto della batteria quindi non è che se io in finocchio detto in termine tecnico cioè imbroglio il il mio circuito all'interno della batteria la batteria dura di più ok parlando praticamente la batteria ha una sua durata e questa durata dipende più che altro dall'uso e dal modo come la carichiamo e dall'uso che ne facciamo se vogliamo parlare il numero di cicli di carica possiamo anche parlare se noi danneggiamo una batteria i 500 cicli di carica previsti diventano 400 ok quindi è la stessa cosa non è che noi dobbiamo per forza attenerci al numero preciso dei cicli di carica quindi questo per dire come si carica una batteria e come si fa per mantenerla il più possibile viva per quanto riguarda le batterie al nickel metal l'importante è tenerle sempre cariche cariche anche al cento per cento l'importante è che siano sempre cariche e l'importante è che questa carica non scenda mai sotto il 50 60 per cento quindi questo significa che ogni due mesi ogni tre mesi chiaramente la batteria più fa vecchia più si scarica prima quindi ogni due tre mesi prendete la vostra batteria e fate un ciclo di carica se per caso il ciclo di carica indica il ciclo di carica migliore viene fatto facendola anche scaricare sono due modalità di caricare le batterie una semplicemente dagli quello che serve per arrivare al massimo della carica e un altro invece il ciclo completo il ciclo completo che abbastanza obbligatorio su quelle a litio di cui vi parlo fra un attimo è invece una cosa opzionale da farlo ogni volta da farlo spesso però ogni tanto c'è da farlo perché praticamente come se rigenerasse un po la batteria il ciclo completo indica portate la batteria a uno a una scarica quasi totale una volta portata la batteria alla scarica totale gli date una carica totale fino al massimo della carica e la lasciate in quello stato se la batteria l'avete ferma da un anno due anni anche tre anni io la butterei ma diciamo dopo due anni avete una batteria che volete utilizzare parliamo sempre di nickel metal gli fate una scarica il ciclo di carica e scarica totale glielo fate due o tre volte e la batteria se non è rovinata e se non è completamente distrutta arriva al massimo della sua efficienza quanto è il massimo dipende da quanto è rovinata la batteria il ciclo di scarica o si fa mettendola da qualche parte che consuma abbastanza oppure vi comprate un oggetto di questo anche qui costa poco è praticamente uno scaricatore di batterie quindi è il contrario del caricabatterie questo serve anche per scaricare pacchi batteria di quelli per caricare i telefonini eccetera quindi è utile perché vi permette vi permette di fare un ciclo di scarica a corrente controllata quindi voi potete sapere quant'è la corrente di scarica sia per non scaricarla troppo velocemente sia per non stare un giorno ad aspettare come si fa sui telefonini con youtube attaccato per dove potete fare per far scaricare la batteria e fargli fare il ciclo completo di questi oggetti ce ne stanno ce ne stanno vari tipi questo è un altro modello un po più carino perché ha anche il display ha il display con cui io posso posso decidere posso decidere di aspettate ho sbagliato il ok ho messo il la scaletta con gli argomenti della serata ok dicevo quest'altro oggetto che state vedendo sono tutti scaricabatterie che permettono praticamente messi sul circuito che può essere o la batteria con due pinzette due coccodriglio quello che c'è sia sulla batteria sia eventualmente sulla parte usb qui permettono di scaricare con corrente costante quindi in questo caso con questo oggetto qui basta che con questa piccola regolazione andate a vediamo se si vede così possiamo anche vedere direttamente se funziona ecco qua ecco ecco così è possibile decidere quant'è quant'è l'amperaggio in questo caso due ampere e mezza con cui voglio far scaricare l'oggetto e quindi ecco qui ora sta scaricando praticamente a 2.52 ampere e io posso scaricare questo oggetto in modo da poi fargli dei cicli di carica completi questo dei scaricatori di batteria ok ecco qua ok sono tornato io bene questi oggettini costano poco e vi permettono di mantenere le vostre preziose batterie anche quelle anche quelle a litio permettono di scaricare più nel tempo senza che dobbiate stare a cercare qualcosa per farle consumare le batterie perché in quel caso lì voi non potete decidere la corrente di scarica quindi può darsi che le fate scaricare troppo lentamente o troppo velocemente quindi sul riscaldamento eccetera ok quindi riassumento sulle batterie al nickel metal tenetele sempre cariche non fate mai scaricare oltre il 50 per cento se ferme per troppo tempo uno o più cicli di scarica completa zero al massimo e poi le rimettete un'altra volta a cuocere praticamente a cuocere nel nello zaino ok un'altra cosa importante che riguarda questa batteria e anche gli altri tipi di batterie se avete un pacco batterie di quattro batterie che mettete usate sempre quel pacco lì non invertite le batterie tra quel pacco e un altro pacco metteteci un numero sopra se avete due pacchi uguali che differenziano le batterie appartenenti allo stesso pacco perché una delle cose importanti è il bilanciamento si chiama il bilanciamento della carica fra le farà le batterie all'interno dello stesso pacco perché se avete due batterie che hanno una vita differente una caratteristica differente queste batterie tra di loro quella che va meglio consuma subito e si scarica subito quella che va peggio va piano piano e praticamente si continua in maniera esponenziale questo discorso fino a far rovinare completamente la migliore e a far addormentare la batteria peggiore e c'è un'operazione che si chiama il bilanciamento che viene fatto sulle batterie professionali che praticamente porta tutte le batterie allo stesso livello nel caso vostro in maniera molto più stupida per essere sicuri scaricate le tutte quante tutte quante insieme gli fate un ciclo di carica dopo uno o due cicli di carica sono tutte quante allo stesso livello salvo che non ce n'è qualcuna difettosa all'interno e allora quel punto là è un altro paio di maniche ok veniamo alle batterie a litio che sono quelle eccole qua le batterie a litio sono quelle che noi usiamo più spesso ultimamente ecco ve ne faccio vedere tre modelli differenti le batterie a litio si suddividono fondamentalmente in due tipi batterie a litio ioni batteria ai polimeri di litri ai polimeri di litio ok quelle ai litio ioni sono le più vecchie sono questo modello qui praticamente e in questo momento sono anche queste le macchine fotografiche dato che sono abbastanza più affidabili nel tempo usano più quelle ancora a litio ioni sono un po meno efficienti di quelle nuove e hanno la caratteristica il difetto di gonfiarsi facilmente gonfiarsi sapete che un grosso problema per le batterie non tanto per le batterie ma per gli oggetti dove stanno perché una batteria che si gonfia una potenza enorme quindi può tranquillamente crepare all'interno di un corpo macchina ok spero di avervi impaurito abbastanza quindi e lo fa da sola quindi non è detto che sia per forza che lo faccia per forza quando è sotto carica quindi le batterie al litio ioni hanno questo difetto le batterie ai polimeri di litio ce l'hanno di meno comunque le caratteristiche di questo del primo tipo di batteria sono queste qui sono più sono più anziane sono più un po più affidabili nel tempo però hanno diciamo quando vogliono far male fanno male come si deve ne abbiamo abbastanza esperienza tra telefonini e altre cose ne abbiamo abbastanza esperienza noi quindi attenzione a queste batterie la loro vita si vede normalmente hanno un chip all'interno che indica quanti cicli sono stati fatti anche lì non possiamo imbrogliare come fa qualcuno che ogni tanto ancora dice non arriviamo al 100% della carica ci fermiamo al 70% così lui non ha capito che è finito un ciclo e la batteria dura di più nel tempo la batteria viene caricata fino al massimo perché il circuito all'interno ottimizza la carica della batteria nel miglior modo possibile quindi fate caricare la batteria fino al massimo ogni volta dopodiché la batteria al litio ricordatevi questa caratteristica non deve mai essere lasciata al massimo della carica tanto per cambiare le cose rispetto al nickel metal non deve mai essere lasciata al massimo della carica perché al massimo della carica si rovina e potrebbe creare qualcosa all'interno che può succedere qualcosa e basta non voglio più impaurirvi quindi non deve essere mai messa al massimo lasciata chiaramente è ovvio che se dovete usarla dopo tre giorni tranquillamente la mettete al massimo se la dovete lasciare in carica e dovete lasciare nella macchina nella fotocamera per tre mesi non la mettete mai al massimo della carica ok la batteria al litio sia al litio sia ai polimeri di litio si lascia si lascia in sto stoccata si dice in stoccaggio al 50 60 per cento della carica quindi portate la batteria al massimo fatela scaricare fino a un certo punto e poi dopodiché la lasciate in quello stato là c'è anche un'altra cosa negativa delle batterie al litio non vengono mai lasciate al massimo ma non vengono mai lasciate a zero una batteria al litio lasciata a zero al 90 per cento la buttate per se la lasciate a zero per un po' di tempo quindi se non la buttate praticamente dopo che l'avete lasciata a zero e va bene siete fortunati ha perso il 40 50 per cento della sua della sua efficienza quindi quando invece non si brucia completamente perché c'è un effetto particolare che avviene l'inversione degli elementi all'interno l'inversione elettrica ovviamente degli elementi all'interno e inverte la polarità quindi c'è una leggera polarità al contrario che anche questo inutile che ve lo dico ma non è una mano santa per l'apparecchiatura dove sta all'interno perché mettere la polarità al contrario sapete che non fa bene alle fotocamere ok quindi attenzione a queste cose perché le batterie sono un elemento di grande pericolo se usate in maniera maldestra la manutenzione delle batterie quindi non le lasciate mai per lunghi tempi completamente carica non le lasciate mai scariche il ciclo che viene fatto sulle batterie è un ciclo molto preciso il ciclo di rigenerazione perché viene riconosciuto dai chip all'interno e se lo fate in questo modo serve a far riprogrammare il chip interno in modo che dalle prossime dalle volte dopo la batteria viene riconosciuta in maniera normale non so se avete mai notato che una batteria ogni tanto si scarica poi vi dice che sta al 40 per cento poi improvvisamente scende a zero non è detto che sia rovinata la batteria semplicemente il circuito elettronico che controlla lo stato della batteria non riesce più perché non si trova più i vecchi valori perché la batteria un pochino si è esaurita non riuscendo più a trovare i vecchi valori allora quello che fa è che non riesce più a dare nemmeno valori precisi quindi c'è una procedura che viene fatta che dovete fare per rigenerare tutte le batterie questo vale a litio questo vale sia per i telefonini sia per le fotocamere sia per tutto e l'operazione è questa accendete mettete la batteria sotto carica fate fare la carica completa la batteria dopodiché fate scaricare completamente la batteria in qualche modo vedete voi se o all'interno dell'oggetto o con uno scarica batterie come vi ho fatto vedere prima quindi fate scaricare completamente la batteria sempre nell'oggetto la fate mettere sotto carica però all'interno del possibilmente nel telefonino all'interno del telefonino della fotocamera all'interno del caricabatterie della fotocamera la fate caricare completamente quindi carica totale scarica totale ricarica totale quando è arrivata al massimo della carica e se accesa alla luce la batteria al 100% spegnete il caricabatterie questo questa procedura scarica carica scarica carica al 100% spegni viene riconosciuta da questi circuiti e viene rifatta la taratura del circuito di controllo carica e quindi questo è importantissimo vedrete che dopo che l'avete fatto non succede più quel discorso che trovate la batteria improvvisamente scarica dal 30 40 50% l'altro tipo di batteria è quella ai polimeri di litio polimeri di litio è una batteria un po più avanzata delle caratteristiche un po di nuova generazione e andrà a sostituire completamente quella litio litio ioni e ha una caratteristica perché per come è fatta e può diventare anche è anche flessibile quindi è fatta su strati successivi quindi può essere usata anche in oggetti più flessibili e può essere manipolata molto meglio in dimensioni può essere completamente piatta sottile dove vedete batterie un po più strane stiamo parlando di polimeri di litio però è più leggera leggermente più leggera ha un circuito di controllo un po più sofisticato però attenzione è più delicata quindi se non la trattate bene ecco una batteria vengono usate le batterie polimeri di litio specialmente per esempio nei radiocomandi nei nei radiocomandi negli aerei controllati nei droni queste sono le batterie polimeri di litio come vedete hanno una sono molto sono molto più sottili o comunque sono batterie molto molto più delicate questo tipo di batterie hanno bisogno della stessa della stessa manutenzione delle batterie perché sempre a litio sono alla fine quindi attenzione non lasciate le mai cariche una batteria di un tele di un di un aereo controllato era di controllato un elicottero un drone se la lasciate completamente scarica al 99 per cento si butta è una cosa che sanno normalmente chi gli appassionati di questo hobby che non mai lasciarle a zero quindi anche in questo caso la batteria si lascia in stock al 60 per cento 60 per cento la usate al cento per cento tranquillamente non la lasciate mai completamente carica non lasciate mai completamente scarica questo per quanto riguarda le batterie un'altra caratteristica delle batterie polimeri di litio e che gonfiano un po di meno quindi hanno l'effetto swelling si chiama che fa gonfiare le batterie fino a lasciamo stare esplodere roba del genere questo effetto è molto minore leggermente minore non molto minore nelle batterie ai polimeri di litio ok quindi queste sono in generale le informazioni per quanto riguarda le batterie ciclo di generazioni ogni mese quel giochino ogni paio di mesi quello che vi ho detto io scaricare completamente caricare al massimo e spegnere il caricabatterie e attenzione c'è un problema di bilanciamento anche qui se avete dei pacchi batterie a litio ma si usano pochissimo in in campo fotografico giusto qualche power bank particolare anche lì attenzione a non scambiare batterie fra banche differenti perché è molto importante il bilanciamento di carica fra i vari elementi all'interno della batteria ok andiamo avanti parliamo di schede di memoria altro altro elemento di grande di grande attualità allora schede di memoria prendo un attimo ok le schede di memoria sappiamo quasi tutto sulle schede di memoria quello che riguarda quello che vorrei dirvi stasera importante e i cicli cioè tutte le schede di memoria si possono scrivere un certo numero di volte sono delle ram sono delle ram non labili quindi sono delle delle memorie ad accesso random al contrario delle hard disk di vecchia generazione che hanno accesso sequenziale quindi sono delle memorie accesso random però sono statiche quindi al togliere l'alimentazione non si cancella il contenuto queste memorie anche qui hanno bisogno di essere trattate in un certo modo hanno un certo degrado si degradano con due con due modalità fondamentalmente la prima è col numero di cicli cioè più volte la scrivete ha una sua vita una sua vita ben definita però questa vita ben definita se vi dicono un milione di cicli anche lì è come i cicli casi che scarica della batteria se è degradata diminuisce questo numero di cicli cioè muore prima detta tra di noi quindi hanno un certo degrado questo degrado riguarda i numeri il numero di cicli e la vita che fa normalmente il calore eccessivo diminuisce la vita e dato che sta in un oggetto che normalmente che la fotocamera o altre cose dove viene inserita che normalmente genera calore questo qui fa sì che la batteria ha il suo ciclo e si rovina anche se non fate grossi grosse scritture sulla sulla scheda di memoria quindi attenzione sulle schede di memoria anche qui vale lo stesso discorso delle batterie per quanto riguarda i cloni comprate sempre ormai sono scese di prezzo anche quelle lì originali comprate sempre originali il più possibile attenzione ai cloni e perché c'è una battaglia tra continua tra quelle vere e quelle false normalmente il 90 per cento delle batterie che trovate online che non siano da rivenditori autorizzati il 90 per cento sono batterie clonate quindi batterie scusa schede di memoria clonata quindi attenzione attenzione a questa cosa prendendo solamente da rivenditori affidabili per quanto riguarda la la manutenzione c'è poco da fare la cosa importante nella manutenzione e non fare molta attenzione a non toccare i contatti con le mani questi contatti sono dorati loro costa quindi essendo dato che loro costa ce n'è uno strato parecchio sottile questo strato viene corroso con il nostro sudore acido non basta il sudore che noi portiamo toccando questi contatti viene trasportato sui contatti dall'altra parte all'interno della fotocamera e corrode anche quelli quindi praticamente dopo un po' comincia a fare falso contatto non legge più le schede vi da problemi di problemi di foto che vengono perse eccetera quindi attenzione non toccate mai la fotocamera e la scheda di memoria e non se per caso la toccate solito alcol isopropilico bella pulita dei contatti e lasciateli così non usate assolutamente strumenti di pulizia o altre cose per quanto riguarda le memorie perché si rovinano perché vi ho detto questo strato che c'è veramente molto molto sottile quindi non si toccano i contatti per quanto riguarda l'utilizzo in camera quindi all'interno della fotocamera vi voglio dire solo questa cosa possibilmente il modo più utile per scaricare le foto dalla fotocamera è togliere la scheda di memoria dalla fotocamera metterla in un lettore vediamo se ce l'ho non ce l'ho comunque forse ce l'ho qui comunque metterla in un lettore esterno è inutile ve lo faccio vedere tanto le conoscete benissimo quindi metterla in un lettore esterno e attaccarla al pc questa procedura che molti dicono sì ma io ogni volta devo aprire lo sportellino della macchina è molto più resistente lo sportellino della camera che la sua porta usb quindi più di collegare la macchina usb al pc è molto più molto più sicuro e molto più duraturo per la fotocamera aprire lo sportello e togliere e mettere la scheda di memoria ovviamente non vi dico di attaccarlo via wifi perché i tempi sono in mani nel caso che avete macchina con con gra con parecchi megapixel e grossi quantitativi di foto quindi la scelta è sempre quella tra attaccare la fotocamera direttamente al pc oppure non attaccarla al pc ma attaccarla dalla scheda di memoria attaccarla in un lettore di memoria quindi mi raccomando è molto meglio aprire lo sportello e non consumare l'usb ma ce l'ho da qualche parte eccolo qua questo qui sono dei connettori usb coordinato per sistemarli in vari punti di una fotocamera e altre cose dove si rovina perché poi uno c'ha pure fretta quindi attacca lì dietro la macchina e spesso si rovinano e smontare una fotocamera permettere per cambiare un connettore usb è molto più complicato del costo del connettore usb da solo quindi il connettore usb è la cosa in assoluto più cambiata nei cellulari ovviamente perché quello che si attacca più spesso quindi il mio consiglio staccate dalla macchina mettete dentro al pc e scaricate la cosa un'altra cosa importante quando mettete la scheda di memoria un'altra volta nella macchina io vi consiglio ogni volta di riformattare la scheda perché il pc comunque scrive all'interno della scheda dei file suoi dei file nascosti specialmente la parte di windows dei file nascosti e scrive dei file che possono dare fastidio alla scheda di memoria e alla lettura dei file da parte della fotocamera quindi possibilmente mi raccomando se possibile tanto si latta di un attimo non è che si consuma essere riformattata oltretutto quando si formatta viene fatto un controllo e vengono riposizionati dei blocchi all'interno della scheda di memoria in modo che se c'è qualche piccolo difetto viene sistemato quindi il mio consiglio più spesso possibile formattate la camera bene abbiamo quasi finito vi volevo parlare del flash un attimo per quanto riguarda la manutenzione del flash che vi faccio la manutenzione del flash c'è poco da dire solamente due cose importanti la a parte le batterie che va bene riguarda quel discorso delle batterie di prima due cose sul flash sono importanti la prima che lui ha dentro il elemento i due elementi delicatissimi c'è il flash la lampada ovviamente è il condensatore di carica di scarica che serve per dare l'impulso alla lampada questi due elementi devono funzionare quindi il flash non va tenuto inutilizzato anche lì ogni tanto mettete dentro il flash anche se non usate le batterie senza attaccarlo alla macchina fate un paio di scatti e lo lasciate anche se lo lasciate col flash con lo scatto diciamo col flash senza premere il pulsante prima di spegnerlo non fa niente perché c'ha delle resistenze che scaricano comunque il condensatore dopo un po di tempo però i condensatori e il condensatore in particolare un elemento delicatissimo è quello che si rompe quando si rompe un flash normalmente si è rotto il condensatore che ha un grande costo perché delicatissimo dato che parliamo di deve generare tensioni nell'ordine dai 5 600 ai 20 mila volte a seconda del tipo di flash è un elemento parecchio parecchio delicato quindi attenzione a questa cosa ogni tanto prendete di flash fate un po di scatti e poi lo rimettete in altra volta della borsa un'altra cosa sul flash che questi flash tutti i flash moderni hanno dentro il motore per la hanno la parabola motorizzata che segue lo zoom dell'obiettivo no e anche lì attenzione usatelo perché spesso si blocca con la polvere che entra dentro il flash ci avete buttato sempre da qualche parte entra la polvere si blocca il motorino della della parabola anche lì bisogna smontare il flash e tutto o si rovina anche stando fermo semplicemente perché si 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 grippano i meccanismi quindi anche lì mettete sulla camera fate un po lo zoom dell'obiettivo in modo che il flash va va su e giù e quindi potete utilizzare direttamente questa cosa ogni ogni pochino ogni paio di mesi però fatelo anche qui per la buona saluta del vostro flash ovviamente se c'è la parabola se non c'è motorizzata se non c'è la parabola motorizzata vale il discorso della pulita dei flash veloci ultima cosa non due cose su sulla manutenzione dei treppiedi ovviamente c'è poco da dire però ho visto personalmente treppiedi su dei fiumi crollare perché non erano stati fatti il controllo dei bulloni controllate che il treppiede funziona ogni tanto controllate tutti i dati se sono avvitati sembra una cretinata ma uno spesso non lo fa fate un po di manutenzione oliate le giunture perché è importante se no vi potreste trovare o col treppiede completamente bloccato oppure con una gamba che se ne va per conto suo e la macchina sul torrente quindi spero sempre di mettervi abbastanza paura ma con queste brevi piccole attenzioni dura nel tempo se ha delle coperture di gomma il flash tipo per mantenerlo eccetera ricordatevi andatevi a vedere l'altro video dove parlo di mantenere le superfici gommate nel tempo quindi lo vedete nell'altro video ultima cosa per quanto riguarda le cinghie anche lì non lesinate sul costo della cinghia diciamo la tracolla come si dice oppure come in questo caso queste cinghie da spalla c'è questa ditta che si chiama la black rapid che è la migliore in assoluto che a parte la comodità di tenerla addosso la cinghia quindi una parte ergonomica c'è tutta una parte di sicurezza per quanto riguarda gli attacchi è fondamentale la sicurezza perché spesso noi abbiamo fotocamere con obiettivi molto pesanti e più è pesante più abbiamo bisogno di queste attrezzature perché se è leggero abbiamo bisogno della tracolla o di questa da spalla quindi attenzione controllate sempre la funzionalità dei moschettoni quando chiudete il moschettone vi faccio vedere direttamente l'utilizzo e come faccio io che sarò anche pauroso in poi però pavido ma comunque preferisco più così che altro quindi praticamente controllate l'efficienza del moschettone e che sia sempre avvitato una volta collegato dopodiché dato che per attaccare questo tipo di cinghia che viene attaccato al dorso della macchina alla parte sottostante della macchina quindi assicuratevi che sia ben stretto evitate qui possibilmente i cloni ve lo dico perché anche qui se si rompe questo con un obiettivo particolare poi si piange quindi attenzione chiudete tranquillamente questa cosa però una cosa che può succedere in questo caso e che piano piano tenendo appesa la macchina con gli urti eccetera si svita e senza che ve ne accorgete si svita e dopo un pochino trovate il regalo allora ricordatevi di controllare continuamente lo stato di questa aggiuntura oppure fate come faccio io usate un backup costa pochissimo lo fate con poche lire e funziona una meraviglia in questo caso basta un cordino un po di un paio di nodi e un po di termorestringente se volete fare la cosa più chic è un moschettone da due lire e fare qualcosa del genere poi ognuno se la inventa come vuole è giusto per giusto per l'idea si aggancia un altro punto di sicurezza della macchina per esempio dove si aggancia la cinghia e il moschettone di backup si aggancia per esempio qui ok questa operazione abbiamo quindi il funzionamento principale che seppure si svita si rompe o succede qualche cosa abbiamo il funzionamento di backup quindi sottile questo è di nylon mantiene ovviamente benissimo la fotocamera e questo permette chiaramente che nel caso che si svitasse si rompe qualcosa si apre questo eccetera e non ci facciamo caso durante un matrimonio una cerimonia dove non dove perdiamo completamente l'attenzione a queste cose rimane agganciato per la cintura di sicurezza o il backup che dir si voglia quindi attenzione alla sicurezza anche lì controllate sempre gli strap pulite sempre le cinghie se c'ha delle parti di gomma ricordatevi sempre la parte del video che riguarda la manutenzione della gomma benissimo abbiamo detto veramente quasi tutto sulla sull'atterrezzatura fotografica spero che la cosa vi sia piaciuta e ci vediamo al prossimo webinar grazie a tutti se vi piace lasciate qualche commento giù o qualche like fa sempre fa sempre piacere nonostante che non che non vado ai numeri ma mi piace semplicemente per far contento qualche amico quindi grazie ancora a tutti alla prossima ciao ciao ciao